Ciao a tutti, ciao e allora siamo in giro per Bologna con Nadia, io sono Sofia Meier la papessa, in una Bologna un po' soleggiata, un po' nuvole, non ci sa, comunque domani sera noi saremo in trasmissione, io e la Nadia, di nuovo nel programma di Rete 4 Dritto Rovescio. Visto che la settimana scorsa in vendo contro Adinolfi abbiamo avuto un grande successo, ci hanno richieste, quindi noi saremo lì seguitici alle ore 22.30 slash 23 e niente che dirvi. Nadia come ti senti? Sono molto eccitata l'idea, ci divertiremo un sacco come sempre. Pensiamo già al look, sarà un po' più sobrio e siamo a casa di una grande attrice, Tiziana dei Masi, nel suo mega appartamento lussuoso in pieno centro, sta dirigente che non mi fa passare la macchina, scusate che stiamo a guidare e che c'è certa gente che è abituata a guidare i trattori, io non capisco perché a me i trattori non mi capita mai, comunque niente, noi continuiamo ad andare a fare volontariato, quindi stiamo andando a trovare una nostra amica che è appena uscita dall'ospedale, prima eravamo da un'altra nostra amica ma sta dormendo che fa le chemio, andiamo a portare un po' della nostra solarità, un po' del nostro boing boing, scusa Nadia stai dormendo? Nadia? Ma sono sopraffatta dalla tua personalità come sempre, la vichinga, lei è una vichinga bionda, peccato che non sia un video questo perché lei è proprio... No oggi sono una gran figa effettivamente, si può dire questa parolina? Ah la ruota della macchina? No, 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 no.